Una famiglia olandese di Rainer Ward, un piccolo centro vicino a Drenth, da nove anni aspettava la fine del mondo, rinchiusa nello scantinato della loro fattoria. Questo fin quando il figlio più grande, un venticinquenne, ha deciso di uscire di nascosto e di andare al pub del villaggio più vicino, dove ne ha approfittato per raccontare l'incredibile, seppur terrificante, vicenda. Gli hanno creduto, mobilitando la polizia, che ha iniziato ad indagare. Gli agenti sono andati a perquisire la fattoria, completamente isolata, dove cercando sono riusciti a trovare una scala nascosta dietro ad una credenza che conduceva allo scantinato. All'interno di questo è stato trovato un uomo di 58 anni, costretto a letto da un ictus e sei giovani, d'età compresa tra i 18 e i 25 anni. Nessuno di loro, registrati all'anagrafe, con difficoltà ad esprimersi e soprattutto alcuni erano convinti che non ci fossero altre persone al mondo. Il figlio maggiore, lo stesso che ha salvato il resto della sua famiglia, ha aiutato a ricostruire il tutto. L'uomo non sembrerebbe essere il padre dei sei, confermato anche dagli stessi, e non è neanche il proprietario della fattoria, quindi il suo ruolo non è ancora chiaro nella vicenda. L'unico legame di sangue conosciuto dei ragazzi è la madre, deceduta precedentemente che la famiglia andasse a vivere in quel luogo, ma non si sa dove sia stata sepolta. I vicini di casa, invece, hanno affermato di non aver mai visto nessuno di giovani, ma soltanto l'uomo. Quindi, stando a quanto riferito, l'uomo era veramente convinto della fine del mondo imminente, costringendo i ragazzi, allora alcuni di loro erano soltanto dei bambini, a rimanere segregati in cantina. Una notizia davvero sconvolgente, che dimostra ancora una volta quanto la mente umana possa sprofondare nell'oblio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS